Uamini e mezzi del comune di Francavilla al mare da questa mattina sono al lavoro per liberare le strade dal fango e gli scantinati ai garage dall'acqua che è inondato soprattutto la zona del foro dove la situazione sta lentamente tornando alla normalità. All'indomani delle forti piogge, se soprattutto la zona di via dei Frentani a fare l'inventario dei danni più importanti, i disagi principali si riscontrano sul fronte della viabilità con la chiusura al traffico della galleria San Silvestro lungo la variante che collega Francavilla al mare a Pescara e dove le abbondanti piogge di ieri hanno fatto collassare una delle pareti del tunnel. Scongiorato il peggio Luisa Russo, sindaca di Francavilla al mare, assicura di essere al lavoro per vigilare su una riapertura in tempi brevi della galleria San Silvestro. Ieri c'è stato un incontro organizzato dalla prefettura in cui è partecipato anche un dirigente ANAS che ci ha assicurato tempi brevi per il ripristino di queste pareti diciamo che sono crollate anche per la verifica della sicurezza di tutte le altre. Sarà mia premura vigilare sui tempi di questa esecuzione dei lavori perché per noi la chiusura della galleria comporta un grave disagio per la viabilità perché tutto il traffico viene riversato sulla statale adriatica. Si tratta di una galleria realizzata solo nel 2007 da pochi anni e molto molto frequentata e utilizzata da tutti i residenti di Francavilla e non solo. La vicenda di ieri è stata una vicenda sicuramente eccezionale in quanto è caduta una quantità di pioggia nell'arco di una giornata pari alla quantità ad un quarto dell'acqua che cade nell'arco dell'intero anno. Fortunatamente non abbiamo avuto vittime ci sono danni a immobili fondamentalmente privati per i quali sono ancora in azione vigili al fuoco e protezione civile e voglio ringraziare perché stanno aiutando a svuotare dall'acqua cantine e garage e pianiterra stiamo facendo una ricognizione degli smottamenti e delle buche che si sono create sull'asfalto piano piano stiamo tornando alla normalità. La zona più colpita è stata quella del foro perché? Adesso stiamo approfondendo c'è stato lo smottamento di un canale un canale in via dei Frentani ci sono altri danni anche nella zona di via Trigno e di via della Rinascita quindi anche nella zona nord della città però certamente la parte a sud è stata più colpita anche probabilmente per la quantità di acqua caduta. Chiederete lo stato di calamità naturale? Adesso gli uffici stiamo valutando avevamo ovviamente aperto il COC ieri quindi ci sono tutti i requisiti per poter fare le richieste oggi è una giornata di valutazioni di sopralluoghi per capire quanti sono i danni ma sicuramente andremo verso quella direzione.